Se siamo fotografi, amatori, appassionati o professionistici, sarà capitato prima o poi di sentir parlare di filtri. E non sto parlando di quelli che si mettono su Instagram con uno swipe del dito, sto parlando di filtri fotografici veri. Oggi faccio seguito a una richiesta che è diventata abbastanza costante nel corso del tempo di fare qualche contenuto dedicato ai filtri fotografici. Che cosa sono, a cosa servono, come si usano, come sceglierli. Nel corso del video di oggi andrò a farvi vedere uno degli ultimi acquisti che ho fatto, per cui andremo a parlare di un filtro in particolare. Vi ricordo di farmi sapere in un commento se l'argomento vi interessa, perché in questo modo riesco a capire se c'è un interesse e andare a fare dei contenuti ulteriori esattamente su quello che mi avete richiesto. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e come sapete mi occupo di fotografia. Mi capita spesso di utilizzare dei filtri fotografici. Ora, un filtro che cos'è? Andiamo a mostrarvene uno. Questo qui è un filtro che ho acquistato di recente. Se riesco ad aprirlo, perché queste confezioni sono assolutamente inespugnabili. Allora, un filtro è un affarino di questo tipo. Voi vedete che è un disco. Adesso io ve lo avvicino e ho fiducia che la messa a fuoco del mio nuovo 35 mm farà il resto. Infatti, come vedete, si comporta molto bene. Questo è un filtro ND da due stop. Quindi è un filtro che viene montato a vite sul frontale del nostro obiettivo ed è un filtro che va a tagliare luce. Infatti, come potete vedere, se io vado ad avvicinarlo, se la mia fotocamera collabora, vedete che dentro al filtro vedete la stessa cosa ma più scura. Quindi quello che fa questo filtro è semplicemente andare a tagliare parte della luce. Ora, vi domanderete come mai io vado ad acquistare un filtro di questo tipo con un diametro che per la cronaca è di 52 mm, quindi il diametro del mio nuovo 35 mm, di cui vi lascio il video in card perché ho fatto un unboxing. Farò presto una recensione dopo averci smanettato un pochino. Perché vado a mettere un filtro che taglia la luce in entrata nella mia fotocamera? Perché di solito la luce quando si fa fotografia o video non basta mai, è sempre poca e quindi si cerca in tutti i modi di illuminare la scena, di aumentare. Insomma, perché in questa circostanza specifica io vado a tagliare la mia luce e, attenzione bene, sto andando a tagliarla ma non con questo filtro, sto andando a tagliarla con un altro filtro sempre da 52 mm che però è un ND variabile che va da 1 a 5 stop. Ora, io vado a tagliare la luminosità in entrata perché sto usando dei parametri molto specifici per fare la mia ripresa. Nello specifico, siccome sto girando a 24 fotogrammi al secondo, voglio girare con uno shutter di un cinquantesimo di secondo. Andatevi a recuperare la regola dello shutter angle per capire come mai, però il modo migliore di registrare un video con questo framerate, che è quello che io ho scelto per i miei contenuti, è quello di impostare uno shutter di un cinquantesimo di secondo. Ora, dal momento che io ho acquistato questa lente per sfocare lo sfondo, il mio obiettivo con questa lente era di sfocare lo sfondo, se no mi tenevo quella di prima. Per sfocare lo sfondo devo tenere aperto a 1.8. E si dà il caso che sulla videocamera che sto utilizzando, che è la Canon EOS R7, per andare a girare in log, gli ISO migliori che posso andare a utilizzare sono ISO 800. Ora, se io utilizzo questi parametri, quindi un cinquantesimo di secondo, f1.8, ISO 800, col mio set, con la mia illuminazione, c'è troppa luce. C'è troppa luce magari sullo sfondo, dove vedete che io ho messo una lampadina ornamentale, che in questo momento io ho impostato la zebra in camera, quindi vedo benissimo che cosa clippa e che cosa no, e mi sembra, vedendo il display, mi sembra che la lampada non stia clippando. Quindi lo scoprirò poi a monitor, perché questa è la prima prova che faccio con questo filtro. Mi sembra che non stia clippando, quindi mi sembra di avere esposto giusto. Nel momento in cui la lampada clippa abbiamo una perdita di dettaglio che a me non fa impazzire. Il monitor, stessa cosa, vedete il monitor del mio Mac qui dietro. Io ho abbassato la luminosità per non farlo clippare. Quindi mettendo questo filtro e andando poi a pareggiare con la mia luce principale, la mia luce principale che è una Godox, cos'è la SL100B, mi sembra, non mi ricordo più, ve lo lascio in descrizione con il link di Amazon. La mia luce ha un dimmer ovviamente, quindi io posso andare a pareggiare, però la luce dello sfondo invece i dimmer non ce li ha, perché è una lampada ornamentale con un monitor. Quindi lì ho dovuto tagliare un po' di luce, e non potendola tagliare in macchina l'ho tagliata con un filtro. Ora, perché ne ho due? Perché ho fatto delle prove. Ho provato con questo filtro che è un filtro ND4 e quindi va a tagliare due stop. Nel momento però in cui ho messo su questo filtro mi sono subito reso conto che non mi piaceva. Non mi piaceva per due motivi. Il primo è il colore. Il colore veniva molto falsato, non era più lui, ho visto subito a display e poi ho avuto la riprova anche a monitor, che il colore diventava, non era più così gradevole. Io ho messo tanta cura nel disporre le luci in un certo modo e ho scelto Canon perché mi piacciono i colori di Canon. Se poi metti un filtro davanti che vanifica parte degli sforzi o ti costringe a fare tutti dei procedimenti in più, non era quello che volevo. Inoltre mi sono reso conto che la mia fotocamera faceva fatica a mettere a fuoco. Nel momento in cui io andavo a utilizzare un filtro che tagliava ben due stop c'erano dei problemi di messa a fuoco, non riusciva più a tenermi a fuoco correttamente. Adesso vedremo se in questo modo sta riuscendo a tenermi a fuoco perché a me sembra di sì, però comunque ho messo su un filtro ND variabile da uno stop e adesso dobbiamo vedere se la messa a fuoco riesce a essere accurata. Vi posso dire nello specifico che stiamo utilizzando questo. Quindi è un filtro KNF Concept, un filtro ND variabile che mi permette di tagliare da 1 a 5 stop. Io lo sto usando a 1 stop, quindi non sto tagliando tanta luce, ne sto tagliando poca quel tanto che mi basta. Quando si fa un'operazione di questo tipo è bene comunque avere tutto sotto controllo e quindi io vado a utilizzare il mio color checker di X-Rite, vado a utilizzarlo in questo modo. Il color checker si apre, come potete vedere qui c'è una tavolozza di colori. Ora se io la tengo esattamente dove mi trovo io in questa maniera questa tavolozza si becca esattamente la luce che mi sto beccando io. Per cui io in postproduzione sarò in grado di cliccare su questi quadratini di grigio oppure se vogliamo essere più precisi fare meno fatica vado ad aprire la seconda tab. Qui vedete che ci sono solamente due grigi. Nella fattispecie io di solito utilizzo quello più scuro perché la mia è una ripresa un po' moody, un po' carica, quindi non è chiarissima, non è high key, piuttosto è un pochettino noir. Però vado a fare un check perché vado a vedere quale dei due rende meglio e in questo modo mi garantisco di avere il colore quanto più accurato possibile. Ho impostato i Kelvin sulla mia luce principale, ho impostato i Kelvin sulla mia macchina, è una luce daylight quindi sono impostati entrambi a 5600 Kelvin, quindi dovremmo già essere in bolla, però con questo mi assicuro che il filtro ND che ho posizionato davanti alla mia lente non stia alterando il colore. Vi posso dire da quello che vedo e mi sembra che lo stia alterando molto poco, a differenza di quest'altro che lo alterava parecchio io venivo fuori bianco cadaverico, cioè più di quanto io già non sia e quindi la cosa non mi piaceva per niente, io voglio mantenere dei toni un caldi come quelli che vedete, per fare un po' di contrasto con quella pennellatina di blu che arriva da dietro, quindi diciamo che il mio intento era questo. In questa prima puntata vi ho fatto vedere così un po' per sommi capi quali sono i filtri che sto utilizzando adesso e più o meno vi ho spiegato come funzionano. Fatemi sapere in un commento se questo tipo di argomento vi interessa, se facciamo degli approfondimenti dedicati a tutte le varie tipologie di filtri, io vi lascio con un video in sovraimpressione dove vi parlo sempre di video e vi parlo di come si sistema un video girato col profilo colore log, è un video che ho già fatto perché io sto girando in log come qualcuno di voi si ricorderà, è una cosa un po' complicata da fare per cui ho fatto un video apposta in cui vi mostro come si espone e soprattutto come si colora un video log perché altrimenti sarebbe grigio e farebbe abbastanza schifo, ve lo lascio linkato, una visione sicuramente consigliata e io vi do appuntamento al prossimo video.